Io inizio perché siamo già un po' in ritardo, ora mi metterò seduto, faccio una brevissima introduzione per presentarvi i nostri ospiti che sono veramente, veramente orgoglioso di poter dire questi ospiti sono qui ora, perché avete veramente la fortuna di poter vedere insieme sia le eccellenze dell'ambito media, rapporto arte-tecnologia, questo ambito che stiamo cercando qui di esporre con il nostro festival, di esprimere e di dire che cosa sono queste media, se ha un'utilità oggi parlare di queste tematiche, quindi con la mostra, con le lecture, con tutte le varie performance, tutti gli eventi che abbiamo organizzato in questi cinque giorni di festival. Questo festival si ispira su ricerca che ovviamente prendono spunto da eccellenze come Ars Elettronica dell'Inz, che è probabilmente uno dei festival più importanti al mondo e uno dei centri più importanti al mondo, come la media art biennale di Wroclaw e il Wroclaw Center in Polonia, a Wroclaw, Breslavia in italiano, che come ci spiegheranno i due appunto rappresentano delle eccellenze. Abbiamo poi Sigfrid Zilinski, Zilinski è uno dei massimi esperti di questo settore, della media archeologia e delle media art, dopodiché abbiamo un rappresentante dell'arte contemporanea in Italia, come Alberto D'Ambroso, che sta portando avanti dei progetti estremamente importanti per l'arte contemporanea. Abbiamo uno dei pionieri assoluti delle media art e della media arte mondiale, che è Anthony Montadas, sono molto contento che sia qui. Dopodiché abbiamo i maggiori rappresentanti delle due anime, diciamo, di questo festival, cioè la Fondazione Montano Digitale con Alfonso Molina, io devo dire che ovviamente tutto questo festival è nato anche grazie al dialogo con Alfonso, il direttore scientifico della fondazione, la fondazione che promuove il festival, e BNL, qui abbiamo Anna Boccaccio, che diciamo ci ha, ecco, senza di loro non saremo qui, questo è il punto poi vero e effettivo. Allora, io per iniziare darei la parola prima ad Alfonso, che ci spiega la mission della fondazione e come la fondazione si inquadra all'interno di questo settore che abbiamo chiamato appunto media art. Abbiamo più o meno dieci minuti, otto, dieci minuti, io se sono troppo duro nel Tinterform, pervi ditemelo magari dopo perché... Valentino è durissimo, pertanto cercherò di essere molto conciso per spiegarvi qual è la ragione per la quale la fondazione Mondo Digitale che lavora per una società della conoscenza inclusiva. Noi crediamo che i benefici della conoscenza, della tecnologia, devono essere per tutti. Pertanto abbiamo arrivato all'arte digitale perché lavoriamo con tante, tante scuole in tutta Italia ma anche in Europa. Allora, perché l'arte digitale per la fondazione? Precisamente, come dicevo, perché lavoriamo in educazione. E l'arte digitale io lo vedo oggi come fondamentale, assolutamente fondamentale per l'educazione del XXI secolo. Prendete in conto che le ragioni per questo sono un mondo complesso, un mondo in cambiamento. Per voi ragazzi, questo secolo è il vostro secolo. Questo è il secolo nel quale voi dovrete cambiare, costruire, viaggiare la vostra vita. All'esteso tempo, come parte di questo dovrete anche reinventare un paese, l'Italia, che vive momenti di difficoltà e questi momenti di difficoltà molte volte si traduzcono in limitazione per la vostra crescita. La scienza e la tecnologia stanno facendo un progresso straordinario, inimmaginabile. Quando parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di industria 4.0, di robotica, della genetica, si parla di un momento di singolarità in questo secolo. E' il momento nel quale la intelligenza delle macchine supera la intelligenza umana che si è sviluppata da milioni di anni. Parliamo della genetica. Oggi si stanno editando il DNA in una forma che si cominciano a creare nuove forme di vita che non sappiamo a che arriveremo. Il filosofo Edward Wilson ci parla di una evoluzione evolitiva. Vuol dire che per la prima volta nella storia della umanità noi prendiamo il controllo della nostra propria eredità. Finisce l'evoluzione che abbiamo conosciuto da milioni di anni. Oggi noi prendiamo questo controllo. Però le implicanze etiche di questo sono di una portata straordinaria. Si discute poco. Però sono le cose che oggi, in questo secolo, nel vostro secolo, saranno di grande importanza. La scienza, la tecnologia si mescolano con grandi sfide. La sfida ambientale, il riscaldamento globale, la povertà, il cambiamento dell'educazione, la mancanza di educazione e di lavoro di tante persone nel mondo. Tutto questo si mescola con un progresso della scienza e della tecnologia creando un cocktail micidiale di complessità. E' il secolo della complessità. Pertanto c'è bisogno di una nuova educazione. L'educazione che noi conosciamo. L'educazione della scuola, dell'università che abbiamo conosciuto non basta. Perché è un'educazione che parla a una parte del nostro cervello. Basicamente la memoria. Invece noi alla Fondazione Mondo Digitale parliamo di un'educazione per il viaggio della vita. Un'educazione per la vita che ha sei elementi di contenuti e che innanzitutto è completamente centrata sulla persona. Ma sulla persona completa. Non solo su un frammento del cervello della persona. Pertanto un'educazione centrata sulla persona. Un'educazione che insegna le conoscenze standardizzate che conosciamo da sempre. La chimica, la fisica, la conoscenza codificata. Che insegna anche le competenze per la vita. Che sono riconosciute come importanti da più di 25 anni. Che si parla della importanza della creatività, della innovazione, del lavoro di squadra. Tutte queste cose sono riconosciute però il sistema non riesce a metterle sistematicamente all'interno di un percorso formativo. E dopo c'è una cosa molto importante per l'Italia. Un contenuto essenziale che sono valori per una cittadinanza responsabile. Qui stiamo parlando di più solidarietà, meno egoismo. Stiamo parlando di integrità, meno corruzione. Stiamo parlando di tutte queste virtù. Che molte volte diventa un po' difficile parlare delle virtù. Quando la gente pensa che queste cose non appartengono veramente alla vita vera. In realtà queste sono le cose fondamentali per ricostruire un paese. Pertanto, conoscenza codificata, standardizzata, competenze per la vita e valori fondamentali. Allo stesso tempo parliamo di un apprendimento lungo l'arco della vita. Il progresso scientifico e tecnologico ci obbliga a imparare costantemente. Ma ci obbliga anche a imparare in tutti gli ambiti della vita. Ciò che si chiama Life Wide Learning. Oggi si parla moltissimo dell'alternanza scuola-lavoro. In tutti gli ambiti della vita noi dobbiamo costruire la nostra conoscenza, le nostre abitudini e costruirci se stessi. E c'è un ultimo apprendimento che è molto più recente, che si chiama Life Deep Learning. Questo apprendimento è l'apprendimento trasformativo. Qui stiamo parlando di un cambio di pensiero, di paradigma, di vedere il mondo con una prospettiva aperta, con la curiosità, con l'esplorare, con il partecipare, mettersi in gioco, cercare la resilienza. Ci sono nuove parole, come l'antifragilità, come il happenstance. Il happenstance è come pianificare la fortuna. Possiamo pianificare incontri fortuiti. Tutto questo è parte di una discussione, di un'educazione che oggi sta prendendo fuoco nel mondo. E pertanto noi vediamo che l'arte e l'arte digitale gioca almeno tre ruoli fondamentali in questa educazione. La prima è che ci permette di fare un'educazione personalizzata. Un'educazione che, come noi sappiamo, tutti noi siamo differenti. Pertanto sappiamo da sempre che non tutte le persone imparano nella stessa forma. Howard Gardner, filosofo teorico dell'educazione, si è insegnato che ci sono almeno otto intelligenze, le teorie dell'intelligenza multiple, e ci dice che noi siamo combinazioni differenti delle differenti intelligenze. Ci sono persone che imparano meglio con un'intelligenza corporale, ci sono persone che imparano meglio con l'intelligenza logica-matematica, ci sono quelli che imparano meglio con l'intelligenza musicale e così via. Questo non è stato mai rispettato nel mondo dell'educazione. Una forma standard si insegna a tutti uguali, e pertanto non c'è una personalizzazione. E questo è la grande sfida dell'educazione del XXI secolo. Si stanno facendo grandi avanti dal punto di vista tecnologico su queste cose. Pertanto la personalizzazione dell'educazione, un approccio che sia del cervello completo, ciò che si chiama whole brain, whole brain education, una educazione che ci parla all'emisfero sinistro e all'emisfero destro, alla unità del cervello, e non solo, predominantemente, all'emisfero sinistro come succede adesso. Pertanto il primo importante contributo dell'arte digitale attraverso le competenze digitali è la personalizzazione dell'educazione. Il secondo è la pratica delle competenze per la vita. Qui stiamo parlando di comunicazione, stiamo parlando di creatività, stiamo parlando di capacità intrapersonale, la gestione dell'emozione, stiamo parlando della gestione della capacità interpersonale, il nostro rapporto con gli altri, la nostra propria emotività. ci sono tanti elementi che appartengono essenzialmente al mondo dell'arte. Pertanto questa è la seconda grande ragione. Ragione è una parola un po' spagnolo. e la terza è che le tecnologie dell'educazione stanno evolvendo straordinariamente. Oggi il videojoco, game-based learning, il videojoco interattivo, la realtà virtuale, la automatizzazione del dialogo maquina-persona attraverso l'apprendimento attivo dove una macchina attraverso il software, il computer, impara perché misura le persone, big data, misura le persone costantemente per capire come stanno reagendo davanti a un percorso che può essere un percorso di matematica. E la macchina va dando consigli, se una persona si blocca può dire guarda, possibilmente quel percorso non è il più appropriato, perché non cerca di andare da questa parte prima. Tutte queste cose, le tecnologie dell'educazione, stanno creando un cambiamento che arriva al lavoro, perché queste tecnologie sono le stesse tecnologie del big data, sono le tecnologie del cloud computing, sono le tecnologie della realtà immersiva, che sono tecnologie che creeranno, cambieranno anche il linguaggio cognitivo con il quale ci confrontiamo con il mondo, una nuova concettualizzazione di realità, dove c'è la realtà aumentata, la realtà immersiva, la realtà mista. E infine, un mondo in grande cambiamento dove l'arte digitale, per le vie delle competenze digitali, tutta la sua potenzialità di creatività e di emotività sta completamente al centro. per questo, ragazzi, noi continueremo a portare avanti questo festival perché consideriamo che è un strumento fondamentale per portare tutto questo al mondo della scuola. E il prossimo anno faremo la stessa cosa, pertanto ci vedremo. Grazie. Bene. Grazie, Alfonso. Io a questo punto lascio la parola, come dicevo, all'altra parte grande del festival, Anna Boccaccio. Io trovo molto bello che una banca come la BNL, che ha una tradizione nel rapporto con la cultura e con l'arte, ricordiamo, gran parte del cinema italiano è stato finanziato grazie alla BNL, si sposti adesso verso queste tematiche che colgono sia l'arte contemporanea ma anche il cinema ma anche altre tematiche sono vie di mezzo e trovo molto bello questa intuizione e quindi lascio la parola a Anna Boccaccio. Grazie. Grazie. Io spero di farvi anche recuperare qualche minuto a vantaggio di qualcuno che voi aspettate di più di me e anche perché io ho il vantaggio e lo svantaggio di aver parlato dopo il mio presidente vantaggio perché lui ha già detto alcune cose quindi non le ripeterò allo svantaggio perché non sono brava come lui a dirle e quindi il paragone non mi aiuta. Mi piace ripartire da questa definizione della banca e del gruppo che non smette mai di piacermi cioè la banca per un mondo che cambia anche perché il cambiamento a livello personale a livello globale è sfida e cioè è vita quindi io trovo sempre che il cambiamento sia qualcosa che ci fa crescere e quindi diciamo la banca è un mondo che cambia un cambiamento che in larga parte è guidato dall'innovazione tecnologica dalle nuove tecnologie che sono tecnologie che si riflettono sulla produzione sui processi produttivi sull'economia ma sono tecnologie che riguardano anche tutti gli altri settori della conoscenza e della comunicazione mi piace appunto la frase che avete scritto qui diciamo è solo attraverso la condivisione che le grandi idee si trasformano in un bene comune e la comunicazione è quella che permette la condivisione se vogliamo i nuovi mezzi di comunicazione quindi dicevo noi siamo una banca e siamo principalmente un soggetto economico quindi il nostro ruolo principale è quello di aiutare il sistema economico a crescere però siamo anche un pezzo della società e come tali vogliamo abbiamo l'ambizione di cercare di contribuire alla crescita della società attraverso un supporto alla cultura che vuol dire supporto alla conoscenza all'educazione e quindi diciamo a costruire una società più evoluta che poi vuol dire anche secondo me una società più libera quindi diciamo tra le tante cose che facciamo dal cinema a mille altre volevo diciamo ricordarvi come noi cerchiamo di supportare le iniziative pensando anche che sia una modalità per gettare un seme per il futuro e quindi ricordare quindi diciamo quell'iniziativa che andiamo a sostenere oggi ha un po' tutte queste caratteristiche quindi anche dell'innovazione e anche del futuro perché voi siete il futuro e quindi noi puntiamo molto sui bambini e sui ragazzi perché saranno il mondo di domani e quindi volevo ricordarvi un'iniziativa che nasce e questo diciamo nell'arido mondo delle banche penso che sia un elemento che va anche a vantaggio dell'associazione che ci rappresenta tutti e dal 2 all'8 di maggio ci sarà la settimana della cultura creativa quindi il mondo delle banche è chiamato su base volontaria a impegnarsi per progetti che stimolino la creatività di bambini delle ultime classi delle elementari e l'inizio della scuola media noi c'è un macro tema che è abitare sopra sotto noi abbiamo scelto di interpretarlo con il vivere nello spazio anche un po' ricordando l'avventura di Samantha Cristoforetti e quindi abbiamo costruito nell'arco di quella settimana insieme all'Istituto Nazionale di Astrofisica dei laboratori in sette città italiane per rivolti alle scuole per stimolare la creatività appunto dei bambini su questo tema allo stesso modo diciamo quest'anno sponsorizziamo la nuova esposizione triennale di Milano attraverso proprio la balena e quindi tutte le attività legate all'educazione dei ragazzini quindi andiamo sul tema del design dell'architettura di queste nuove forme di intervento e poi diciamo più dal punto di vista sociale supportiamo delle onlus che portano l'arte e la musica in scuole dei quartieri disagiati prevalentemente di Roma insieme a questo volevo riprendere il concetto che ha espresso il ministro Franceschini di eredità e di creatività quindi anzi diciamo mettendolo nell'ordine opposto la creatività di cui vi ho parlato e poi l'eredità come vi ha detto il presidente noi abbiamo un importante patrimonio artistico sono 5.000 opere di grande rilievo la nostra cultura è stata quella compatibilmente con un minimo di attenzione alla loro conservazione soprattutto di cercare di portarle a disposizione di tutti nella fruizione più tradizionale di venirle a vedere ma oggi i nuovi mezzi di comunicazione ci aiutano a immaginare nuove forme di diffusione di comunicazione di conoscenza di questo patrimonio e quindi abbiamo e stiamo sviluppando dei progetti di visite virtuali del patrimonio e poi utilizzando anche ancora un mezzo più aggiornato che sono i social abbiamo aperto un account Instagram che si chiama BNL Cultura ovviamente noi comunichiamo le nostre opere comunichiamo quello che facciamo ovviamente abbiamo l'ambizione che essendo i social degli strumenti diciamo a doppia direzione non siamo solo noi a comunicare ma anche il mondo che vede le nostre iniziative ci dia un suo contributo di idee e di suggerimenti grazie bene grazie 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 Anna Boccaccio anche grazie per la brevità io adesso volevo dare la parola ad Alberto D'Ambroso per prima di passare all'esperienza internazionale lui è ideatore dei martedì critici appunto mi dicevo anche molti altri progetti interessanti che ci dà il punto di vista dell'arte contemporanea ed è un esperto dell'arte contemporanea su questo settore mi alzi in piedi anch'io come di solito faccio durante le presentazioni di martedì critici intanto buongiorno a tutti quanti voi e grazie di essere qui per ascoltarci ecco parto dall'esperienza di martedì critici intanto il fatto che sono diventati noti soprattutto grazie alle piattaforme di social network che all'inizio appunto tra il 2009 e il 2010 avevano attecchito e come anche in Italia quindi proprio grazie appunto a Facebook e ad altre poi piattaforme che hanno continuamente poi rimbalzato la notizia sappiamo bene ormai come funzionano oggi questi sistemi di comunicazione hanno fatto sì che un format concepito all'epoca in casa mia in uno spazio di 50 metri quadri potesse avere nel giro di 2-3 mesi solamente di attività una cassa di risonanza tale da poi proiettarlo nel giro appunto di pochi mesi nei grandi musei poi di tutta Italia noi abbiamo realizzato in circa 7 anni di attività circa 180 incontri a Milano Napoli e Roma anche qui in Maxi siamo stati presenti per due anni consecutivi quindi ecco questo è già un primo impatto legato comunque alla potenza chiaramente della comunicazione e quindi della tecnologia ma anche allo stesso tempo e qui voglio aprire anche quello che è il discorso legato più propriamente all'arte ovvero anche il fatto stesso di come queste tecnologie siano come dire continuamente aggiornate e che poi portano anche allo stesso tempo all'obsolescenza delle stesse cioè quindi una tecnologia che può andare benissimo in questi giorni e da qui magari il prossimo anno non è detto che poi fra due anni fra tre anni potrà essere la stessa e quindi e anche se verrà aggiornata poi quelle opere che sono state prodotte comunque con quella tecnologia poi difficilmente per mancanza magari dei vari accessori o perché appunto poi vanno fuori in produzione e quant'altro possono creare delle problematiche serie ma questo è un aspetto d'altronde che già era noto già presente fin dalle opere degli anni 60 cioè ovvero quando inizia poi a parlarsi a parlare di arte elettronica la video art no già a partire quindi dal periodo del gruppo Fluxus quindi con Wolf Vostel e poi subito dopo con quello che è diventato il pioniere della video art Nam Juinpike no iniziava già questo discorso legato appunto alla tecnologia applicata all'arte e poi allo stesso tempo anche a quello che è il futuro stesso di queste tecnologie in effetti molti di queste opere poi nel tempo si sono perse non sono state più restaurate non si è saputo nemmeno appunto restaurarle anche perché poi tra l'altro quando muore l'artista si porta con sé ovviamente anche i segreti stessi a meno che non ci siano degli assistenti che stiano insieme a lui che poi possono portare avanti questo tipo di attività ora quello che si presenta oggi è un incontro è un festival dedicato quindi a questo particolare quindi nicchia diciamolo così ancora che è la media art e che però racchiude al suo interno tutta una serie chiaramente invece di contaminazioni che non sono semplicemente quelle appunto dell'arte digitale l'arte del computer per intenderci ma che vedono poi una infinità appunto di applicazioni e di contaminazioni appunto con le varie forme d'arte quelle che oggi noi conosciamo e quindi si può parlare di installazioni installazioni sonore installazioni digitali installazioni pittoriche scultura e via dicendo quindi diciamo che è anche difficile appunto cercare di sistematizzare questo vasto appunto mondo ormai dei media art un altro discorso è anche quello che si può riferire invece a il tempi anche qui quello che l'evoluzione poi del tempo nel rapporto che l'arte ha sempre intrattenuto o non intrattenuto con la scienza chiaro che noi fin dal quindi dall'epoca del modernismo quindi il costruttivismo poi agli inizi del secolo scorso abbiamo visto un alternarsi nel corso poi di tutto il novecento dei rapporti tra arte e scienza e che ovviamente nel momento in cui tra la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale hanno creato quelle che sono state le avanguardie dell'arte cosiddetta irrazionale quindi il dadaismo il surrealismo ma anche poi la stessa arte informale che è stata diciamo il momento massimo di crisi dell'arte europea in particolare e che è finita in qualche modo si è andata esaurendo alla fine degli anni sessanta ed è appunto gli inizi degli anni sessanta che in Italia ma non solo in Italia accompaiono poi quelle nuove avanguardie chiamate all'epoca definite come arte programmata o arte cinetica e soprattutto poi cappeggiate da quello che è stato uno dei più illustri studiosi insomma filosofi e linguisti insomma del nostro paese Umberto Eco da poco scomparso con il suo famosissimo poesaggio l'opera aperta quindi dove si prevede appunto questo rapporto diretto quindi dello spettatore a partire però da un meccanismo già preordinato quindi l'arte programmata partiva appunto da questi concetti di un'arte quindi che viene regolata in anticipo e quindi che viene in qualche modo poi lasciato allo spettatore non solo quindi la percezione ma anche poi l'idea contenuta nel suo processo quindi l'arte come processo stesso del suo fare artistico arriviamo quindi al momento in cui però la stessa arte programmata e cinetica a un certo punto scompare non se ne parla più perché non se ne parla più perché l'arte cinetica non aveva più senso perché era una moda ecco l'arte cinetica a un certo punto qualcosa di 5-7 anni fa è stata ritirata fuori rispolverata dai musei dei magazzini dove era stata lungamente tenuta e qui alla galleria ad esempio Nazione d'Arte Moderna è stato di nuovo fatto un allestimento per portare di nuovo l'attenzione sull'arte programmata cinetica del tempo parliamo ancora dei tempi e delle mode come si parlo mode perché a mio avviso poi in tutto ciò dietro ci sono anche questi questi tipo di processi e quello di una decina di anni fa proprio qui a Roma a un certo punto qui a Roma dieci anni fa era venuto fuori una sorta di piccolo gruppo che si chiamava nuovo quadro digitale tre nomi di tre artisti tubi pareia e gianvenuti che sono totalmente scomparsi nessuno li sa più erano però dei nomi che all'epoca sembravano che dovessero furereggiare spaccare il mondo a un certo punto sono scomparsi ma nessuno ne sente anche la voglio dire così la lontananza voglio dire ecco per dire allora cosa significa anche questo significa chiaramente che questo è un fenomeno è un fenomeno come è a volte oggigiorno la street art cioè c'è una una comunicazione massiccia appunto da parte di mass media c'è un interesse chiaramente da parte dei privati che fiutano ovviamente poi a volte chiaramente quelli che sono delle degli affari che si possono fare e quindi bisogna chiaramente dovremmo sistematizzare tutto ciò anche perché aggiungo c'è anche un problema legato al critico cioè il critico d'arte che è giusto che si aggiorni è giusto che il critico d'arte chiaramente nel tempo debba comunque avere un soggioramento e stare come si dice al passo con i tempi mi riferisco ad esempio al mio mentore Maurizio Calvesi oggi 89enne che è stato tra i massimi storici dell'arte italiani e lui si era formato con il rinascimento però poi nel 1970 aveva presentato la seconda rassegna internazionale dopo quella che si era tenuta la Stedelijk Museum di Amsterdam curata dal grande pioniere della video art Gary Schum e l'aveva presentata appunto a Bologna nel 70 Kermess una mostra curata con Tommaso Trini e Renato Barilli ecco quello stesso periodo negli anni 70 quindi Calvesi prende in mano anche la video art la lancia in Italia dicendo però poi durante gli anni 70 a un certo punto di video art non la faceva più quasi nessuno cioè erano rimasti i grandi che l'avevano iniziata negli anni 60 ma poi negli anni 70 non la fa più nessuno a un certo punto Calvesi la ripropone infatti nella Biennale del 84 portando anche i computer quindi anche qui vedete come da quello che era stato il momento magico di Colonia nel 69 con Gary Schum e tutta l'arte appunto della video art dei primi anni in 70 a un certo punto c'è un calo e non se ne sa più nulla ecco queste dinamiche ci fanno capire come ci sia questi rapporti che a volte di tenuta a volte la tenuta è talmente così dura poco che nemmeno si fa tempo a storicizzare quindi ecco come lo storico e l'arte come può intervenire all'interno di processi che a volte non si fa nemmeno tempo di conoscerli e come la stessa cosa è la proliferazione degli artisti oggi la possibilità del web quindi la possibilità della tecnologia che può effettivamente portare a una proliferazione di artisti tutti i giorni che tranquillamente semplicemente magari facendo una foto e mettendolo con il filtro di instagram si possono sentire artisti e ce ne sono tantissimi allora tutte queste che in mio avviso sono problematiche dovrebbero essere invece proprio frutto di convegni di discussioni di messi a punto cioè per capire effettivamente perché se ne parla oggi perché sono importanti che futuro possono avere ecco noi qui abbiamo oggi uno dei massimi esponenti al mondo appunto della media art Antonio Mundanes ma che fa questa cosa da 45 anni cioè non è che 45 anni fa come dire non se ne parlava non era un argomento cioè diciamo appunto come mai oggi diventa un argomento cioè io vedo il fatto che la media art sia come una delle tantissime altre forme d'arte e che merita il suo posizionamento ma insieme a tutto il resto cioè non farei una distinzione tra questo è street art questo è video art questo è scultura queste installazioni cioè oggi siamo nel periodo della contaminazione totale dei linguaggi nel rimescolamento di tutto quello che sono state le avanguardie delle prime avanguardie alle seconde avanguardie quindi io credo che tutto ciò sia all'interno di un grande processo di trasformazione del mondo di cui anche che la tecnologia fa parte ma che debba essere considerata appunto all'interno di questa visione olistica ecco grazie 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 Alberto perché ha puntualizzato la storico dell'arte appunto che viene delle cose molto importanti e ha perfettamente ragione sul fatto almeno a mio avviso secondo anche il mio percorso insomma breve professionale che in Italia ancora serve una storicitazione di queste tematiche e capire i collegamenti che sono con l'arte contemporanea come se quali sono appunto i collegamenti dell'arte contemporanea col cinema e con le varie arti e questa è una cosa che appunto noi con il festival vogliamo proprio fare quello di iniziare a costruire un ambiente che si collega col mondo dell'arte contemporanea si collega con tutti questi mondi perché sono allo stesso tempo connessi e molto vicini anzi spesso si sovrappongono quasi come la situazione estera a mio avviso è un tantino diversa soprattutto Germania Austria e anche Polonia hanno puntato da anni e ci sono testi ci sono c'è stato un processo di storicizzazione per questo qui abbiamo Gerfried Stoker sorry we are talking in Italian Gerfried but you know just and che lui ovviamente parlerà inglese and come vi dicevo Stoker è il direttore artistico del festival del Arts Elettronica Festival di Linz e il managing director dell'art dell'art center di Linz è dedicato a queste tematiche che esiste dal 79 noi stiamo facendo BNL Media Festival su arte e tecnologia eccetera eccetera ma loro lo fanno dal 79 e quindi ci parlerà lui di come anche Linz è diventata un centro per queste tematiche grazie a te grazie a te grazie a te e quando il ministro è morto, c'è ancora un audience che è interessato in il nostro topic. I think this is really wonderful. And you have a really great festival here with many interesting media art installations. You have a wonderful panel here with juridici, artisti. So I thought maybe I should not talk about art at all because there is anyway so much media art here. But maybe give you a little bit a kind of introduction or a way to see how our organisation is trying to approach this integration of art, technology and society. You have heard already our organisation exists since 1979. So it's really very, very long time. 37 years ago, art, technology and society became the topic of this new festival. About 20 years ago, exactly 20 years ago, we had a very big shift and change in the development of Ars Electronica because until then it was only a festival. And since 1996 we have a permanent location, an Ars Electronica centre, that is not considered to be an art museum for digital art by the educational centre that is using, utilising the digital art for its educational purposes. At the same year, we started the Ars Electronica Future Lab as a prototype of a laboratory where artists, designers, engineers, software developers are working together on the one side on art projects, but also on collaborations and commissioned research for the industry. The whole thing fortunately grew very successful and so three years ago, we had to make a split-off, a spin-off of the Future Lab that is now taking care about all the commercial applications of the interesting creative ideas that are coming out of this collaboration. This is called Ars Electronica Solutions. So these are the four major areas. We also have a huge archive with almost 70,000 media art projects documented. We are not collecting the projects, just the documentations. We do many international exhibitions, but the main four areas are the ones that I just described. And I think the really important point when you look at Ars Electronica is that from the very beginning, it was this kind of bastard. When the festival was created with the subtitle Festival for Art, Technology and Society, nobody liked it. Because the artist said, you know, this is too much technology. The engineers and the scientists said, hey, what's going on with all this stupid art project? We from the university should get the money. And of course, society and politicians, well, that's another thing. We were able, in a good collaboration with the Austrian television, to attract many, many people to the events. And this is how you please the politicians and the sponsors. So that was rather the easy thing. But sitting between these three chairs gave us our identity. I would say it took 15 to 20 years to recognize that this is our identity. And it's nowadays that we are really super privileged and happy that we had this lucky coincidence that so many years ago already people had this idea to make this Festival for Art, Technology and Society and give all these three elements an equal role. Actually, it was not because, I mean, they were super clever people. I mean, just imagine in 1979 to do something. But it was not a master plan. There was nobody who was kind of working out a business plan and a strategy. It was a journalist, an electronic composer, and a scientist. And when they discussed about the festival, the new festival, they just couldn't come to terms. What should it be? So at the end, they just said, okay, let's call it a festival for art, technology and society. And I think it is this kind of coincidences. And it is, on the other side, the commitment for the long run. I'm doing my job now as director of this Arts Electronica Center with all the four departments since 20 years. And I can assure you, I have met a lot of ministers and politicians, local ones, big ones, small ones, dedicated, yes, we have to go for the future, we need creativity and art to develop a new direction. But then they were expecting outcome in one year, in two years, in three years. No chance at all. I said it already this morning, the most important thing is to consider it as an ecosystem. Only if you have partners who are willing to contribute to the development of creativity, who are committed to nurture the soil, then you have a chance to harvest it. It's very simple. We are doing agriculture since 20,000 years on this planet, so actually we should know how it works, but very often we don't. The second thing, of course, it's all about the people. Well, you have heard this very often, but it is the case. What you have to do is when you think about this kind of institutions, events, programs, you have to think how can you support people in developing their ideas, enjoying their ideas, enjoying their collaboration. One of the best things is to put out challenges that are equally challenging to everybody. Because usually when you have artists and scientists working together and you have artists and technologists, designers, technologists, engineers, and you have a technical challenge, well, then the engineers say, okay, this is our task, we can solve this. And then the next thing is maybe a little bit more the creativity or the critical part and the artists jump in place and say, yeah, this is our domain. So, where's the collaboration then? It's just the efficient working together. So you have to find challenges for all of them that brings them on very thin ice because only if you all together have to go on this very fragile ground and you don't know where is the weak spot that could, you know, make you fall into the cold water, then, of course, suddenly you change. This is the way where you hold hands. This is the way where you look at each other. This is the way where you try to anticipate what the others are doing. And these, I think, are the very important issues to put together and this is what makes this development, this collaboration of our technology and society successful. If we have the time, I would like to show you a video of one of our recent projects that is, I think, a wonderful way to dispute is it art, is it not art, what is it, what is the role of the companies, what is the sponsor, what is the collaborator, who are the engineers, who are designers. but I think when you see the video, what you will get is the spirit that comes out of this collaboration. So maybe we can show the video, please. When you think about it, the future is the only thing that can be created. Everything else is created already. So it is actually a driving force. Call it curiosity, call it hope, that gets you things done that never have been done before. That was the idea of the drone swarmer. Coming home. Coming home. The drones that we fly, we call them spexels, the space pixels. It was really trying to achieve a 3D display. As soon as you call them drones, people immediately think dangerous, but it isn't really. It can't be beautiful. Ars Electronica is concentrating on the intersection of art, technology and our society. So really focusing on the future of our society by the means of artistic use of technologies. When Intel came and said, what about doing a hundred drones? Oh, you know, nobody did it yet. Nobody even tried it. I was just like, you know, yes, yes, let's go for it. for the setup tomorrow morning, it's quite important, I think, to first get an idea of where the airfields are before we start setting up the tents. And then the idea is to go directly into a 100 drones test flight. It's a team of 15 people. We have four pilots and four airfields with 25 drones each. So each pilot is communicating with the crew on his respective airfield. Taking off. We developed our own ground control software. It's an animation software that needs to have quite a powerful machine running it. The specs are challenging because it's really hard to sketch something in 3D. You want to create something that amazes people, that people like, and that's probably something new they haven't seen before. We're just taking technology and making art out of it. The reason why we decided to do Drone 100 is because we wanted to push the future of technology. You need to find somebody to push you across the borders, really. and this is what we found in Intel. It's not just like the technology that is there, but what's more important is actually the driving force that is behind that company and that visionary power. We're working with different aviation entities around the world to understand what the policies are, the rules and regulations, and make sure that drones are safe and we can have light shows like this. I think it's very important to show people that it's not always the drones that look at you. Sometimes it's the drones that you should be looking at. Tonight, we're going to have 100 drones up in the sky, synced up with the orchestra. We're going to show an audience something a little bit different and it's all happening in Tarnasch Airport near Hamburg. No matter what, it's going to be incredible. I can't describe it. It's years of efforts, development and hope exploding in one minute in this one moment of excitement. Five, four, three, two, one. Everybody ready? All drones reach down. We'll be right back. We'll be right back. Humanity is curious and humanity is equipped with hope. But that driving force is in all of us and that makes us doing things that are just like one would say crazy probably and others would say astonishing. Of course, at the end there is... At the end, you have it again, there is advertisement. So the big question is, you know, is art being sold out with this? Interesting to know is the technology, all this, has not been developed, commissioned by Intel, but it has been developed out of an artistic idea for a big public art event that we did in 2012. And only several years later now, the industry is jumping on this project and of course, Intel is one of the leading companies in developing the hardware for the Internet of Things and all this kind of ideas. They find it very interesting. but I think again the project or the example should be an example to be heavily discussed and disputed. Thank you. Thank you, Stoker. Thank you, Gerfried. Che dire? Ci arriveremo anche noi. Giusto? Prossimo anno. Complimenti. Allora, adesso io darei la parola a Piotr Krajewski, anche lui direttore artistico della Media Art Biennale di Wrocław e Managing Director dell'Avro Art Center sempre di Wrocław. Wrocław, che in italiano è Breslavia, è una cittadina della Polonia, molto molto carina, che è diventata, anch'essa è diventata un centro importante grazie proprio a queste tematiche. So, thank you, Piotr. Thank you very much for the invitation. It's really great pleasure to have this opportunity to share some thoughts, but also some images with you. I was asked to present to you Wrocław. Wrocław is one of the festivals which was established in the 80s, the pioneering time. The pioneering time when the social changes associated with the new technologies were just to be begun. So Wrocław belongs to the group of a media art festival initiated in the pioneering 1980s. So Wrocław is 10 years younger than Ars Electronica, but it's still one of the long existing media art festival in Europe. So it was established when the social changes associated with the new technologies were just about to began. so there was a lack of many today's technologies and so the media art has at that time promised phenomena, field of study, new cultural issues that societies were just to experience. so and when nearly 20 years later we set the art center the situation was totally different. Media technologies have already been grounded in everyday life and functioning of the society. Now the Wrocław Biennale and the art center form one organism which is connected with another. I prefer called it organism than institution because we derive from an alternative movement and during all years we managed to keep the status of independent non-governmental initiatives working for public benefit and reacting actively to current phenomena important current phenomena. I prepared a couple of pictures to discuss some issues and I would like to share with you some talks both on the formation of a significant artistic event as well as on regular everyday activity. So those two photographs that are here are showing pretty similar situation so you can but they are divided into quarter century. They present two different audiovisual concerts organized during Vrobien Alley in Philharmonic Hall. They look pretty similar. The contemporary screen looks maybe more spectacular in the picture. However, those small video screens used in 1990 were mostly to be seen for the first time in their life for the majority of audience. So the impression resulting from the contact with the new technology was then much much stronger for people than today when the media art uses means which are simply accustomed to. next two pictures. one is the concert of the fundamental difference between the reception of media art in the past and the present lies not only in the technology itself but for the waste media experience of the present audience. The equipment and technologies used by art are well known to the most of the audience from their everyday experience. In the photographs from 1997 you can see the famous Jaron Lagnier the inventor of the world virtual reality he is here introducing his experiment with the virtual world as an interactive audiovisual instrument. The artist as one of the very few in the world at that time have then access to the silicon graphics octane computer a very rare and extremely expensive world at that time about half a million dollars. Well nowadays popular devices demonstrate similar computing power and artists can carry out even the most advanced experiments using the popular technologies which we know from everyday life. On the second picture you see one of our interactive installations shown from the center which is a good example of how the audience can freely control the interactive projections of their own using their own mobile devices so you can see that the artwork is not only something object which is presented in the gallery but it also could be controlled but interact with your own devices the devices which we have in our pockets like smartphones smartphones next slide please so there are two other examples of what media art can do now so you see the work by young polish artist Natalia Balska which is a circuit of interaction between the plant and the system of artificial intelligence that grow by having an impact to each other on the second picture you have work by Australian artist Lucas Abella is vinyl Rayleigh the artist here makes use of the retro technologies such as video game controllers and stations from the 80s vinyl records stacked into the racetrack and RC car equipped with the gramophone stylus it's a really powerful installation and the racing cars read the growth from the vinyl so it's really sound installation so they really using the vinyl the sound recording on the on the on the vinyl records so therefore it's a good illustration that the art can take the new scientific issues but also it could be powerful reconfiguration of the obsolete technologies well I want to say something also about the classics so also about the past of the history of media art I think that awareness of the classic that is expressive emblematic works from the past is important in every field but for understanding of media art and knowing direction of its development is really crucial and is really necessary to create possibility of getting acquainted with the classical works of art so to make this art available for new audience two examples one is the exhibition state of the image exhibition which I won't mention the driving force for this exhibition was Siegfried Silinski so we organized this exhibition in Berlin together with it was really broad international collaboration the other example is our publication in fact is one of our first publication which is collecting classical video works by Polish classic media art classic Józef Robakowski and also there is a selection of essays discussing his art and approach to the experiments in fields of the electronic image next one please also two different examples of how we are dealing with the past with the history of media art so you see here the exhibition of Namjoon Pike the pioneering artist of the video art electronic electronic artist the retrospective is like a museum retrospective of selection of this legendary pioneer of media art however some excellent works from the past are much difficult to be understand by the new audience so it happens for various reasons for example when the context which was important for the reception of the work was vanished so it is really worth looking for such new ways of presenting the classics and addresses it to new audience so it was it is our example from our exhibition ACDC IT alternating directing shifting when we produced together with the artist new installation discussed using you know classical and new digital devices new digital possibilities to how you say to recreate some artworks or artworks which have discussed several issues important for this classical artist so you see here the installation which was inspired by Woody Vasulka famous video piece from the 70s please next this is really important to have also to work with young artists so there are two examples of the artworks which are related to the realm social media one they are young artists one is the Polish artist Julia Taszicka another another Cuban artist from the Netherlands so the artists are using the social media so you see something like Facebook wall but as an object in the gallery and also series of artworks which are based on the tutorials found on the internet so the social media are really the important reality which also influence the art ok but also the data flow the constant data flow is important so I'm presenting two different artworks one is the mechanical waves which is driving by the real signals coming from Boyer on superior superior lake another is the installation the big antenna scanning and making the audiovisual output from the radio waves from the over present signals the signals which are over present around us ok last one we are working with the kids and also with the seniors so which is really important also even as important as working with the audience and developing new artworks it is also important to develop new ways of working with the audience yeah thank you very much sorry pietra sorry i always i always hated to do the moderator you know and so now anthony montadas come sapete pioniere del del artista del midiart e dopo conclusioni sigfrid zilinski altro pioniere degli studi su queste tematiche e anthony forse italiano tanto parli bene italiano anthony tu per attenzione dei colleghi ok you tell me the time is english va non va 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 provalo ok media arts festival credo che per cominciare credo che è interessante anche fare una revisione del linguaggio di come si espressiamo parole perché media perché art perché festival festival perché no symposium perché no conferenza deve essere tutto festivo spettacolo non so lo questione perché se ha una tavola rotonda tutte queste cose sono cose a discutere anche parole come media credo che è una parola che è molto complessa la parola ultimamente molto l'idea di archivio l'idea di research interdisciplinare sono parole che utilizziamo però qualche volta se banalizza la banalizzazione della parola è un discorso che qualche volta è un po' prepotente è un po' over dimension credo che anche la parola militare in questo contesto si deve retenere parliamo di militare nel senso che il research in questi momenti fa 30 anni se non è per le militare questa risorsa del media non avanza potremmo parlare di drones potremmo parlare di riserca che si fa nell'università e che senza i soldi dei militari questa riserca non va in avanzo non deve dimenticarsi credo questo se no diventa troppo festivo bene per cominciare mi piace parlare di un disegno che ho fatto l'anno 70 che era un disegno entre tre circoli arte social science e communication systems e questo circolo credo che ha un momento che si sovrappone e questa superposizione dell'arte la sociale sociale il sistema di comunicazione e il spazio che io mi trovo che mi trovavo all'anno 70 che mi trovo oggi è una interdisciplinarità in che l'arte non è da solo e che la contaminazione o la interrelazione con la scienza sociale sociologia antropologia eccetera e il sistema di comunicazione che possiamo parlare di media si sovrepone a partire di questo io credo che che l'anno 70 parlo di media landscape il paesaggio del media questo passaggio del media credo che tratta di identificare un paesaggio che è surrounded che siamo un territorio un immaginario così per me è interessante definire o interessante per me due cose che sono diverse il medium e il media il media landscape è il territorio il medium sono gli strumenti quello che la mia lavoro in relazione al media stato era l'utilizzazione del medium per parlare del media così se sto lavorando con un video per parlare della televisione ha una relazione del micro macro che ha una certa una certa logica o si puoi parlare d'archivio e puoi utilizzare internet e anche una relazione di medio e media bene a partire di questo quel che lavori e vado rapido a partire del concetto di media landscape faccio un po' di archeologia perché finalmente quello che mi ha detto Valentino di fare un po' di background è difficile di andare indietro però e media landscape era una mostra l'anno 70 in che questo termino mi interessava parlare la relazione dei due paesaggi il paesaggio della finestra e il paesaggio della televisione era l'anno 70 la relazione Vietnam War e Stati Uniti la televisione parlava di un'oggettività che evidentemente non aveva mai dedicato a parlare della soggettività del media o del medium in relazione al media dell'installazione confrontations in cui si parlava di relazione della televisione dei differenti canali sulla stessa news e la manca di oggettività a partire di questi fatti e la relazione con la vita quotidiana come il posto che vivo ancora a New York e la relazione del mercato in relazione al fatto sociale The Last Ten Minutes è un lavoro che sta presentato prima a New York e dopo a Documenta 6 era un fatto interessante che ora non esiste più l'ultimo momento della televisione The Last Ten Minutes non esiste The Last Ten Minutes la televisione 24 ore a questo momento il finale della televisione era la religione e la politica sempre aveva qualcuno che ti parlava della religione qualcuno che ti parlava della politica e l'inno nazionale così questo è un lavoro che io poteva dire time specific si parla di spazio specifico però mai si parla di time specific e la specificità del tempo vuol dire che quegli eventi sono legati al tempo che si fanno bene il Media Architecture Installation era un concetto dopo Media Landscape che mi ha interessato che ha introdotto la relazione dell'architettura con il media e ho avuto l'opportunità di fare un lavoro con Anne-Marie Duguet Media Architecture Installation che era un CD-ROM io l'ho chiamato Inter-ROM perché era la relazione di un CD-ROM con Internet evidentemente in quel momento era ancora un po' difficile per parlare di questo nel senso che è stato un progetto fatto però un po' fallito per questa relazione con Internet ora in questo momento questo lavoro sta tutto al Internet e l'idea di questo progetto era di fare un libro elettronico che Anne-Marie Duguet dando corso alla Sorbonne aveva bisogno per lavorare e mostrare il lavoro del media non di fare un libro sino di poter mostrare l'immagine l'immagine in movimento il suono eccetera eccetera e questa è una collezione che l'ultima è stata con Fujiko Nakaya che ha fatto Michael Snow o differente gente alcuni lavori in rapido di questa serie di media architecture installation The Ballroom era una serie che riprendeva The Last Supper ma su un punto di vista della religione l'economia e il media anche a partire di una serie di retrati presidenziali di personaggi legati al media di tutti i colori e parlavano di questa utilizzazione della religione dal punto di vista economico e mediatico l'estadio è un lavoro che riprendeva l'idea che alla città io credo che ha il museo per la cultura e l'estadio per la cultura popolare e riprendeva un fatto che credo che l'estadio siamo a Roma che parliamo di quello che il Coliseo che la tutta l'arena è l'elemento del comienzo del spettacolo e che l'estadio come spettacolo in certa forma lo consumimo però siamo consumito anche noi una grande installazione con differenti elementi che non voglio raccontare se a qualcuno gli interessa tutto quello di una forma specifica io ho fatto un corso a Belle Arti alle 3 il venerdì e questa è una situazione più per discutere di una forma più chiara Between the Frames era un lavoro sul sistema dell'arte ma ha preso dieci anni analizzando è interessante parlare se stiamo un posto come il Maxi la relazione dei dealers dei collectors la galleria il museo lo docente il critico il media e finalmente un epilogo tutta la interrelazione di questa network che all'anno 70 80 l'esplosione sul mercato del valore del mercato è un lavoro critico a partire di tutte queste differenti personalità 150 interviste che sono molto italiane in questo momento che siamo intervistati e finalmente per dire che il collector per esempio in uno dei capitoli di Between the Frames era la relazione del collezionista con la la borsa di Tokyo il stock market di Tokyo cada uno dei capitoli aveva una relazione con quello che chiamo open visuals The worst conference è anche una relazione con la situazione che stiamo qui parlare parlare parliamo il podium la persona che parla in forma anonima il microfono tutto questo crea una situazione mediatica che mi ha interessato parlare per questa idea della conferenza di press che vuole dire una conferenza di press e come il discorso si sovrepone fino a che si distrugge del limousine project è un lavoro all'espazio pubblico a New York è un lavoro che ho sempre detto che non è site specifico city specific perché per una città che è New York dove la limousine è normale esiste è un stato politico gente dell'espectacolo della gente dell'economia e questa macchina ha stato voltando la città con una proiezione interna e durante un periodo di tempo ha stato come una constatazione a Wall Street a United Nations e a Broadway di questo fatto di questo spazio chiuso e oscuro silenzioso dalla limousine e quello che dentro sta riflettendo per finire voglio parlare brevemente di File Room un lavoro che in certa forma utilizza internet per forma di archivio aveva una composizione di struttura di installazione però il lavoro sta ancora alla rete e questo è interessante parlare di come l'evoluzione del media del primo video che io ho fatto la Nano 70 fino ad ora si è trasferito di medium a medium sette volte del primo Acai quarter inch la Sony mezza pulgata dopo tre quarti U-Matic digitalmente è stato trasferito tradotto sette volte questo il file room che è stato iniziato nel 94 a Randall Street un espaccio alternativo di Chicago e in questo momento è stato negoziando il quarto server il primo server era Chicago il secondo server era Media Alliance dopo National Coalition Against Censorship e ora stiamo negoziando per passare a un altro server così la consistenza del media è una consistenza molto temporale finalmente nessuno garantisce la permanibilità di niente tutto sul digitale sull'analogico tutto viviamo un tempo di temporalità scusate e volere dire altra cosa no solo un minuto ancora no zero ok scusami ciao ok Sigpryzilinski I know that you speak Italian as well but I'm not sure if you I don't need sorry I don't need any introductions you're all hungry some of you already are in this other third world I can see your faces are blue that means your machines are working so we are living in parallel worlds sorry and this is perhaps one of the biggest challenge for what we call media art because we have to reinvent communication between us and between man and machine between machines these are huge challenges I just observed how the discussion started you all were very active in what I call instant archaeology not this kind of archaeology which Montadas just presented instant archaeology means you take a photo of myself and then you look if the photo is like you wanted it if it's not you do another one because it's digital you can spend hours and hours with this kind of procedures and I will of course make a face which is perhaps expecting that you make an image so we have a kind of relation of an instant archaeology and this is a coexistence of time dimensions which we are not yet used to we have to learn that that's very very difficult but let me at least provoke you a little bit before you go to lunch you're all hungry and this materiality is much more important than the immateriality we have to offer when we are talking about media art have a good lunch have a party this is part of a festival this should be part of a festival we should celebrate what we are doing but why Rome and why so late let me be a little bit provocative I think there are various reasons media art was I'm very short now because we don't have much time media art was very strongly an invention of the provinces the metropolitans did not take care about that why should they people came anywhere anyway the tourists came people were interested in seeing the architecture of this ancient city Rome they were coming because they wanted to see the paintings the museums and so on the time machines from the past why should they come to look at a video installation ridiculous these kind of things were invented in the provinces look at Germany Cologne one of the smaller bigger cities Karlsruhe where I'm working now as head of the Academy of Arts and in neighborhood to the ZKM the famous exhibition machine which is existing since the 1990s this is province deep province Karlsruhe has 100,000 people of inhabitants I mean this is ridiculous it's boring what can young people do there they invent things they invent alternative worlds they invent completely different worlds this is what the Polish guys did in the small provinces in the 19th century they invented new worlds because they didn't have anything else to do their father had for example let's say a pharmacy and they had contact with chemistries and so on so they invented new things like for example electricity electrical machines in small cities in Poland coming back to Italy and this is also very important Rome is so late with such a festival because there is a big misunderstanding about media art and this misunderstanding is that media art basically has to do with painting and with visual arts this is wrong when you look at how media art has been developed you can see a completely different story I'll give you one example you might be familiar with him at least the older of you Nanni Balestrini a great artist I like him a lot a good poet a good visual artist in the tradition of Dada Nanni Balestrini set in 1961 together with Umberto Eco in a bank near Milano and they wrote on a computer which was nearly as big as this room an IBM machine it cost not only half a million dollars it cost several million dollars they wrote a tiny little poem in the night of one day in 1961 they were allowed to use this gigantic machine for something different to write a poem so Nanni Balestrini took four existing texts and permutated them put them into the machine and with the help of a program he created one of the very early computer poems at the same year in 1961 there was the foundation of an institute where I studied a little bit later the institute for language in a technological age this was built in Berlin in confrontation with building up the wall between east and west Germany and it was founded by poets and very important by musicians when we are talking about media art we are talking very basically about time based arts about an art which is based on processes on rhythms on time structures the mother of arts of time based art is of course music and poetry and they together generated these early ideas to take the challenge of technology of advanced technology and combine it with art combine it with poetry combine it with something alternative with something different and this brings me to a very important point everything what we are aiming for perhaps when we are dealing with this field is I hope so to improve somehow the dialogue between more and more fractalized and fragmatized realities this was I mentioned it this morning already this was the beginning for the first logic machines Ramon Lull the Catalan the machines which communicated between Judaism the Muslims and Christian cultures and it was also relevant for nearly all of the text machines developed through let's say the 17th and the 18th centuries creating dialogue now we have all these machines which Balestrini dreamed of in 1961 because his idea of the computer was very clearly a utopian idea the idea was very clearly that everybody should create his or her own texts this this is why these computers are there with the help of these processing machines it should be possible to create your own reality that means also your own art your own poetry now we have all these machines and they are networked we can connect with I don't know Katmandu or wherever we want within a fraction of a second or within a few seconds it depends on the connection and what are we doing now with that our task is to improve the dialogue we have no other chance dialogue is the only chance to develop this planet and prevent that it's completely falling apart into different interests into different religions into different hegemonial positions so let's pick that up and dialogue also means of course all that which has been addressed already the deep dialogue between the heterogeneous fields of the arts of sciences of technology this is more or less the triple also which Muntadas mentioned it's the triple which Gertrich Stocker addressed this is what we have to generate a deep dialogue between worlds which are usually not talking to each other which are tending to fall apart and this is I think still a great task thanks and have a good lunch thanks for all bravi verso le otto e mezza quindi siete caldamente invitati domani ci sarà la lecture del professore Sik Prislinski e la sera l'inaugurazione della mostra di Antony montata dall'Accadema di Spagna e dopodiché godetevi il festival e insomma i suoi eventi, il programma ce l'avete, grazie di essere stati qua grazie bene, grazie non ho voluto fare domande grazie 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 grazie